Marco Svili, un simbolo di cantura ormai. Qua sei di casa. Sì, è stato iniziato la quarta stagione per me e ovviamente mi trovo benissimo. Conosco tutto, conosco soprattutto la squadra, il gioco, il gioco e per me è un posto veramente speciale. Quanto è stato importante finalmente alzare la Coppa? È stato importantissimo perché per noi mentalmente è stato un gran passo avanti perché negli ultimi anni abbiamo perso abbastanza finali e è stata come una barriera da saltare sopra. Abbiamo vinto e abbiamo capito che possiamo fare ancora meglio e diventare una squadra buona. Abbiamo abbiato anche la squadra tantissimo quest'anno e siamo più giovani, più atletici e siamo secondo me anche più giocatori, più equilibrati. Poi l'anno scorso con questi infortuni che avevamo con Cermatini e con Nizzo è stato veramente difficile e abbiamo anche pagato per quello. Alla fine veramente dispiacciato tanto perché non sapevamo se potevamo giocare in Eurolega. Quindi siamo veramente fortunati per aver partecipato a questo qualification round e andato in Eurolega. Ho detto che mi sento benissimo qua e poi anche avevo un anno contratto quindi volevo giocare ancora. Quando abbiamo sentito che c'era la chance di giocare in qualification round siamo stati tutti contenti e abbiamo creduto di andare avanti. Il giro nello scorso anno era brutto, quest'anno siamo ancora più brutti. Sì, quest'anno ancora più brutti però anche più divertenti così possiamo veramente vedere a che livello siamo. Possiamo solo migliorare secondo me, possiamo imparare tantissimo e giocando con queste squadre sicuramente aiuterà alla fine anche con il campionato perché avremo una grande esperienza. E anche il campionato può essere seguita nel lotto di favorita e canto ancora più in questo anno? Sì, sicuramente abbiamo una buona, non sto guardando altre squadre ma sto guardando questa nostra squadra e abbiamo una buonissima squadra che ha ambizioni e deve essere.